Nel nostro sport si è pensato a tutto, si è pensato come abbiamo visto ai percorsi e alle automobili, agli equipaggiamenti dei piloti stessi, c'è esattamente una cognizione della sicurezza molto ma molto approfondita. Una componente importante delle gare automobilistiche, in modo particolare delle prove speciali dei rally, è sicuramente il pubblico, la sua presenza. Ovviamente il pilota quando corre attraverso le prove con tanto pubblico è soddisfatto e piacevole, però la cosa importante per il pubblico è quella che deve essere salvaguardato. Grossa parte di questo lavoro viene fatto dai commissari di percorso che vengono posizionati maggior parte delle volte in miglior modo possibile, vicini tra di loro, collegati tra di loro e con il direttore di gara attraverso anche il capoprova. C'è tutta una rete di comunicazioni che tiene al corrente il direttore di gara su quello che sarà la gestione della prova. Abbiamo gli apripista che sono normalmente definiti con gli zero, il triplo zero, il doppio zero e lo zero, il triplo zero che ha la funzione di controllo di tutte le apprestamenti di cui ho parlato prima, il doppio zero che ha un occhio del riguardo del posizionamento del pubblico e lo zero che possiamo intendere come se fosse la prima vettura da gara per cui con delle traiettorie ben precise il pubblico si rende conto dove poi andrà il primo concorrente. Una raccomandazione per il pubblico è la prima, la più importante, di seguire quelli che sono i cartelli in cui vengono indicate le zone per il pubblico. Il pubblico deve stare sempre in una zona sopraelevata in modo che qualsiasi vettura che possa uscire di strada non vada a colpire assolutamente le gambe di nessuno. La preparazione delle prove ci dà la possibilità di inquadrare queste zone che vanno assolutamente rispettate perché secondo me rispettare e fare in modo di essere in sicurezza vuol dire voler bene ai rally.